Un grande successo, ufficialmente il sindaco di Ribera si è insediato proprio ieri e quali le proposte per questa bella cittadina? Sì, ci siamo insediati ieri con una bella vittoria, un successo gratificante. Da ieri siamo al lavoro per la città, una città bellissima, una città che ha bisogno di tantissime cose, una città che ha bisogno di svilupparsi sotto l'aspetto economico perché è un paese prevalentemente agricolo ma che si vuole affacciare anche con sbocchi soprattutto sul turismo. È una città che ha bisogno soprattutto di uno sviluppo sociale e culturale. I buoni propositi sono questi, è un sindaco giovane che chiaramente vuole rapportarsi non solo per questioni anagrafiche ma soprattutto per questioni di opportunità politica con i giovani, che li vuole coinvolgere in un modo moderno per amministrare la città di Ribera. Siamo fiduciosi, la città da noi si aspetta tanto, mi ha stravotato, quindi ho la responsabilità di guidare la città per questi cinque anni e speriamo di fare del bene alla mia città.